Nuove tecnologie in grado di accelerare la formulazione di una diagnosi e di abbattere notevolmente le liste di attesa. Nell'ospedale di Miccoli di Barletta sono state inaugurate questa mattina le due gamma camere che supporteranno l'unità operativa complessa di medicina nucleare. Alla presenza del presidente della regione Puglia Michele Emiliano e del direttore generale della ASLBT Alessandro Delle Donne sono state illustrate pubblicamente le funzioni dei due nuovi strumenti diagnostici e i risultati che sarà possibile raggiungere grazie alla loro attivazione. Una è una gamma camera dedicata alla cardiologia nucleare nel senso che possiamo fare diagnosi di patologie ischemico-necrotiche del miocardio e diamo in contemporanea sia informazioni su come arriva il sangue al ventricolo di sinistra sia di come il ventricolo di sinistra si contrae e anche in relazione a alcuni parametri come i volumi telediastolici, telesistolici, ci sono tutti i parametri di funzionalità tutto in un unico esame dove la novità è che questa gamma camera contrariamente alle gamma camere consuete riesce a fare tutto in meno di un'ora a fronte di 3-4 ore che impiegavano le altre gamma camere per confezionare completamente l'esame dando al paziente un terzo della dose quindi con minore irradiazione del paziente dal punto di vista della radioattività. L'altra invece quella più grande serve per fare tutto il resto della diagnostica medico nucleare che cosa di particolare che ha in sé anche una TAC quando io faccio una scintigrafia ossea per esempio per cercare le metastasi di un tumore della prostata di un tumore della mammella con una gamma camera normale io vedo l'area della metastasi ma non so dire con esattezza dove integrando questa informazione con quella della TAC che gira insieme alla gamma camera riesco a dare una corretta localizzazione dell'area della metastasi dire esattamente dove è localizzata. Da quelli che erano esami che mediamente duravano 4-5 ore riusciamo a licenziare il paziente nel giro di tre quarti d'ora questo consentirà ovviamente l'abbattimento delle liste d'attesa un grado di soddisfazione anche di compliance con i pazienti che riusciranno a tornare nelle proprie abitudinarie consuetudini e vite familiari nel tempo più breve ma soprattutto riusciamo anche essere un centro attrattivo molto di più di quello che già siamo oggi. Stiamo facendo tutti i giorni il nostro dovere, le implementazioni tecnologiche che oggi presenteremo sono molto importanti, naturalmente non si può pensare che in tre anni e mezzo qualcuno riesca a fare quello che negli 30 anni precedenti è stato fatto in modo approssimativo, stiamo ovviamente facendo il percorso più veloce possibile, quindi avere ospedali più complessi, più grandi, con più medici, con più attrezzature e concentrare lì i casi più importanti e di fondamentale importanza. È chiaro che però questi ospedali devono avere tutto e Barletta sarà un ospedale che sarà appena sotto i grandi policlinici di Lecce, di Bari e di Foggia.